Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di Suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, Gesù diceva Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno dei Cieli. Carissimi amici, mi piace iniziare questo appuntamento con la parola di Dio, con una delle beatitudini che ascolteremo nella pericope evangelica, che la liturgia propone per questa sesta domenica del tempo ordinario. Viene infatti presentata proprio la versione lucana delle beatitudini. Luca, rispetto all'evangelista Matteo, parla solo di quattro beatitudini. Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi, perché la vostra ricompensa è grande nel cielo. Ma, a differenza dell'evangelista Matteo in Luca, Gesù continua la sua predicazione con delle condanne. A quattro beatitudini corrispondono quattro condanne. Guai a voi, ascolteremo, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo agivano i loro padri con i falsi profeti. Forse questa seconda parte del Vangelo ci spaventa un po', ma in realtà è un invito a saper essere attenti nella vita e fuggire le situazioni che apparentemente ci rendono felici, ma che invece adombrano la verità di ciò a cui dobbiamo tendere ed aspirare. Il guai a voi di Gesù deve aprirci gli occhi su quella che è invece la speranza cristiana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che la speranza cristiana si sviluppa fin dagli inizi della predicazione di Gesù, proprio nell'annuncio delle beatitudini. Le beatitudini elevano la nostra speranza verso il cielo, come verso la nuova terra promessa. E ancora, nel paragrafo in cui si parla del desiderio della felicità, il Catechismo dice «Le beatitudini svelano la meta dell'esistenza umana, il fine ultimo cui tendono le azioni umane. Dio ci chiama alla sua beatitudine». Tale vocazione è rivolta a ciascuno personalmente, ma anche all'insieme della Chiesa, «Popolo nuovo di coloro che hanno accolto la promessa e di essa vivono nella fede». E allora il profeta Geremia, nella prima lettura, ci ricorderà che è benedetto «L'uomo che confida nel Signore è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, le sue foglie rimangono verdi, non smette di produrre frutti». Il Vangelo sintetizzerà con le beatitudini proprio l'annuncio profetico del Regno di Dio. A noi la prontezza, carissimi fratelli e sorelle, di saper accogliere il dono di questa parola per rispondere con un atteggiamento giusto verso Dio che ci chiama ad essere Suoi testimoni, ad essere beati insieme con Lui nella gloria. Pace e bene e buona domenica a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.